Attimi di paura questa mattina in località San Zeno, dove un'auto si è ribaltata lungo la strada che porta verso San Giuliano. L'incidente stradale si è verificato pochi minuti prima delle 11. Due le auto coinvolte nello schianto e due le persone ferite, di cui una gravemente. L'uomo che si trovava all'interno della vettura, che si è completamente ribaltata, un ottantenne a retino, infatti è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto dai vigili del fuoco del comando di Arezzo intervenuti sul posto. L'anziano è stato poi affidato alle cure del 118, è stato intubato e sedato e portato all'ospedale Le Scotte di Siena con il Pegaso in codice rosso. Ha riportato un importante trauma cranico ed uno facciale. Ferita anche un'altra persona, una quarantotenne di Arezzo, che ha riportato traumi agli arti inferiori e al torace. La donna è stata portata in codice verda all'ospedale Santonato di Arezzo. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.